mi piace passeggiata festosa no non va adesso vedi filarci nel tubo guarda tutti in uno dai e prima no seconda no non mi spingere maledetto hamburger guardi guardi dov'è guardi dov'è prima è crispy vado la salustro lei è dietro adesso la riprendo perché lei cade sono sicura che cade no guardi che sportiveggianza ti è no ma hanno spinto vado in piedi su maledetti ma hanno spinto sono insieme a un nostro compagno di squadra cioè guardi guardi la sportiveggianza e arriva il compagno di squadra il compagno di squadra nostro fa un po' cagare come me quindi va bene sono la prima della squadra ad arrivare ti hai visto attenzione lì sotto bella ecco il bricco il bricco di caffè abbiamo anche il bricco di caffè va 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 si ma si impegni un po' però david per favore detto fagiolo saltellante ma è rimasto l'ultimo di tutti però è l'ultimo della nostra squadra no vado avanti ma quanto è credino ma dai david guarda via il chiul non so non ce la fa per fortuna ci qualifichiamo perché siamo terzi su otto cioè io non ho parole grazie al coccodrillo e grazie a noi due esatto io butterei fuori il nostro compagno di squadra e passa anche passa anche lui